Dio parla al cuore dell'uomo per difenderlo dalle tante persecuzioni diaboliche che lo vogliono portare sempre più lontano da lui. Nell'Esodo leggiamo tu non devi prostrarti a un altro Dio perché il Signore si chiama geloso egli è un Dio geloso non ti farai un Dio di metallo fuso. Dio è elevando l'uomo alla dignità di figlio e di collaboratore nella conservazione e sviluppa della creazione non vuole che il cuore dell'uomo si allontani da lui né peccato. Le varie pitture che abbiamo dei secoli scorsi che oggi non reggono più alla cultura moderna vediamo sempre dipinti il diavolo con le corna, con la coda lunga, con gli zoccoli e magari con un segno proprio di avversione. Oggi questa scena non fa più presa e il demonio si aggiorna e quindi non si presenta più in una forma diciamo paurosa perché in questo modo nessuno si avvicinerebbe. La vera astuzia del diavolo consiste nel persuadere gli uomini che lui non esiste. Possiamo dire che si è aggiornato e manda i suoi emissari uomini dediti al peccato, a creare situazioni di avversità a Dio e a discapito del bene comune. Il monte di oggi incapace di amare e di collaborazione è una manifestazione dell'influenza di Satana. Basta pensare ai campi di concentramento, all'astuzia, alla crudeltà dei carnefici che si industrano a far soffrire di più la vittima. Questa è una crudeltà che è contro Dio e contro il senso dell'amore del fratello. Basta dare un po' di attenzione alla morale degli affari. Alla volta è impossibile mantenersi onesti. Tutto va avanti a forza di raccomandazione, di mance e di regali. Ognuno deplora e tutti ne diventano schiati. Non possiamo dire che Dio è l'ideatore di questa situazione così triste, perché non sarebbe più Dio. Dio è beato in cielo e non si cure del male che regna sulla terra, si sente dire. Egli è fonte di bontà infinita e una simile catastrofe non può fargli partire da lui. E allora chi può essere che crea tante nefantezze, tante ingiustizie, tante fonti di dolore e di sopraffazione nel mondo? Chi potrebbe essere? Colui che ha seminato sempre odio, egoisma, ventetta, distruzione e morte. Non dimentichiamoci che nei secoli scorsi, non parlo di adesso anche se esistono, che ci sono state delle sette che hanno gettato fang sulla Chiesa, disprezzo sul Gesù Cristo, disprezzo sul Papa. Questo che cos'è? È un'azione diabolica camuffata dalle persone che non credono in Dio, non credono nella Chiesa e quindi si sentono liberi di perseguitare queste situazioni. Padre Pio ha pagato di persone l'influsso diabolico che voleva allontanarlo da Dio. Il demonio si era proposto di strapparlo dall'amicizia con Dio, di sconviggerlo e umiliarlo, di renderlo inoffensivo. Padre Pio fa l'esperienza degli attacchi del demonio sia con le tentazioni sia con gli assalti fisici. Spesso era costretto a incaggiare la lotta corpo a corpo da far pensare ad alcuni che ci fosse una vera invasione diabolica. La lotta diventava furibondo quanto Satana si faceva vedere in visione corporale sotto l'aspetto del crocifisso, della Madonna e di altri santi. Padre Pio suggeriva per vincere le tentazioni che sono mezzi di purificazione e santificazione, la partecipazione della Santa Messa, la comunione equaristica e il Santo Rosario.